Giornata senza derby in Serie D, dove col passare delle giornate si fa sempre più serrata la lotta per i play-off e per la salvezza. Su quest'ultimo fronte è fortemente impelagato l'Avezzano, che ha perso sei delle otto partite del girone di ritorno e che ora chiede aiuto a Gianluca Colavitto, l'ex trainer della Vastese e il nuovo allenatore dei Marsicani. Dopo il divorzio da Gianpaolo e la parentesi lanera a San Mauro, il presidente d'Alessandro ha fatto il passo, affidandosi ad un tecnico esperto della categoria per risollevare le sorti di una squadra in chiara difficoltà e a cui spette il compito di dare una prima risposta già domani, quando al dei Marsi arriverà la forte San Giustese, nelle cui fila milita l'ex Federico Cerone, che si è congedato non senza qualche polemica a dicembre, con nove gol ad attivo in bianco-verde solo nei primi tre mesi di questa stagione. Sullo stesso fronte salvezza sono impegnate Vastese e Giulianova. Dopo aver toccato il punto più basso con la Iesina, la Vastese ha dato dimostrazione di essere viva, eppur rimaneggiata ha strappato un punto d'oro a Recanati. Ora Montani e i suoi giocatori dovranno superare le pressioni dell'Aragona nello sconto diretto con l'Isernia, che può essere tappa fondamentale in vista degli ultimi mesi della stagione. I bianco-rossi riavranno a disposizione Cappellupo e il bomber Leonetti, il quale non è al massimo della condizione, ma stringerà i denti per esserci e aiutare la squadra a ritrovare una vittoria che manca dal 6 gennaio. Ci sarà anche l'ultimo rinforzo. Tesserato in queste ore il difensore napoletano classe 95 Geni Russo, che nella prima parte di stagione ha giocato nella CR Messina. Occhio alla squadra di Silva, rilanciata dai tre punti conquistati col notaresco. Anche il girone di ritorno del Giulianova è, nei numeri, problematico. Una sola vittoria a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte nella zona play-out, che si fa sempre più vicina. Alfadini domani sarà di scena all'ostica quanto imprevedibile e scostante recanatese dell'ex tecnico Alessandrini, in lotta per la zona play-off, nelle cui fila mancherà per squalifica un altro ex, Raparo. Nel Giulianova è saltata la trattativa col centrocampista brasiliano De Marchi. Per il resto, tutte a disposizione di Bolzan, ad eccezione di Ferrini, espulso con la Sangiustese. Per la parte alta della classifica, medita riscatto il notaresco. Dopo l'inopinata sconfitta di Isernia, l'avversaria è di quelle difficili ma altresi stimolanti, il Matelica, seconda della classe. Troppo lontano per pensare ad un aggancio, il notaresco però vuole punti per mantenere il piazzamento play-off. Cudinieri avrà un giocatore chiave come Candellori e si affiderà alla vena del bomber Minella. Nel Matelica, Out Margarita, scolificato il tecnico Tiozzo, seppur a distanza, i marchigiani proveranno a tenere la scia della corazzata Cesena. Partito importante anche al Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa ospitano il Campobasso. Dopo la restituzione dei tre punti per la gara di Francavilla, questa diventa una gara fondamentale in chiave play-off. Dopo una fase d'empass, al netto del Capone nel recupero, la squadra di Amaolo si è ripresa con sette punti nelle ultime tre gare. I lupi molisani però, con una vittoria, potrebbero irrompere al quinto posto e coronare una sontuosa rimonta. Il verdetto della Corte Sportiva d'Appello lascia una coda polemica tra Campobasso e Francavilla, alimentata dal ribaltone del comunicato, che nel giro di pochi minuti è stato pubblicato due volte, riportando prima l'inammissibilità del ricorso della società molisana, poi l'accoglimento. In attesa delle motivazioni e di capire se ci sarà spazio per un ricorso al CONI, il Francavilla si concentra sulla trasferta sul campo della San Maurese. È una partita super difficile, perché è una squadra messa bene in campo, una squadra in salute, che sta facendo un ottimo campionato, e quindi ci vuole un Francavilla attento, concentrato, quello visto negli ultimi 20-25 minuti anche con il Castelfilardo, altrimenti se si va con quell'atteggiamento del primo tempo di Castelfilardo penso che possiamo soffrire.